Adesso noi cercare una guida, un cicerone, andiamo mio grande Rudolf, andiamo andiamo Quanto bella gente essere in questa città, che bella città Rudolf, come lui essere adesso? Secondo me piazza Ringel, vediamo questo buon uomo, se ci può dare un Rudolf non mi sembra cicerone Buon uomo, noi avere bisogno di una persona che ci accompagna in visita a questa città Ciceroni! Peppa che ammazzi! Cosa fare questo piccolissimo uomo? Sono portato tre circolare, una, due, ma che l'ho chiesto di piano mi è ammazzato! Dove? Mi viene, dà una mossa! Che facciamo notte? O cosa? Todesca? Chiede! Todesca! Ti piace la nostra moda? Eh? 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 SЬ718 così Eh! E poi? E quando, cosa succede? Rudolf, siamo sicuri che questo è un uomo! noi siamo visita in Ascoli perché avremmo saputo che i nostri concittadini essere santi qui chi è? Sant'Emidio no, Sant'Emidio non è d'Ascoli Sant'Emidio Sant'Emidio essere tedeschi di grande Germania scusate se non è un tedesco che si chiama Midio ci sta? e possivelmente non è non è d'Ascoli, Sant'Emidio Midio con un metodo Midio senti Midio Pidello con una L sola per cui tu ha scritto Pidello con una L perché su scrive che tu fa il suo professore dico Pidello anche questo è vero tutti questi italiani ci viene per i bondelli non P.L. Conan può ma che deve me la fare? noi stiamo cercando il grande Cicerone che ci accompagna per Ascoli tu piccolo uomo sei capace di guidarci in questa grande città? Sì, grande donna abbondante donna ti ne è passata capirla grande birra un barino dopo ti è mangiato pure un barino ti è mangiato l'acquazione è un barino voi due non c'erano questi miei anni inghiacchiere scusa lui tu fare guidarci? sì l'ha autorizzato a fare guidarci? scusa lui mi sembra che ti sovi in qualche parte però mi sembra una faccia conosciuta stanna attenta che io non venga eh vabbè io mannazzo va ma va che mangio oh eccoci qua va come essere in questo posto? questo è il primo monumento in Ascoli allora io ti faccio una volta sola una raccomandazione dimmi noi volere vedere monumento in serie Bruno sono capito? ecco lui cosa essere questa ridicola pietra? questa ma la scuola è la bibbia la bici ah io non vedo monumento ma tu faccio vedere solo piccola pietra spiegami ora tu faccio vedere vediamo Rudolf vuoi sapere? mi puzza sempre di più di fregatore ma Rudolf usate queste mac dove stiamo in questo posto? Redu Jolly Jolly? e da cosa? Redu Jolly io non vedo Jolly qui cosa essere Jolly? questa piantina non dice Jolly un monumento sta scritto RR ed A-U attaccato Jolly Redu Jolly io non vedo Jolly qui cosa essere Jolly? che è un cazzo è Redu Jolly però non ci vedete Redu Jolly io il Jolly lo vedo anche quando gioca a casa anche perché l'annanzo Jolly ci stiamo passando esiste questo ridicolo pietra è un essere Redu Jolly questo essere Jolly questo essere Jolly questo essere Jolly questo essere buffone clown si mi tieni fai vedere a noi almeno tre barra quattro monumenti altrimenti piccola letterina e ti porti in Germania non ti preoccupare e non è una bella cosa quello hai già capito che non era una bella cosa in Germania andiamo avanti andiamo avanti io voglio vedere una grande piazza molto più forte vieni oh guarda che piazza qua tenda un filo tenda un filo qua ci passa il filo bus un filo bus oh vuoi sapete che è questa? cosa è questo? qui noi siamo a Piazza Immacolaten eh no 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 ià Piazza Immacolaten quere la stanne sta scritto No 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 questa è Piazza da Libertà NAY sì Sì NAY è questa essere Piazza Immacolaten scusa quella su sopra è La Statua dà Libertà e allora è Piazza da Libertà Che dice di cosa è? che è jos pulce sempre più di pregatorio anche Preta ci dice NAE NAE lang Goes book una sola asked se vuoi pagare la guerra. Davide, perché piazza immaginata? Piazza La Libertà, se vuoi sbagliare a scrivere. Rudolf mi puzza tanto per la tua. Fittio, io voglio vedere una piazza seria. Ti porto nella piazza più grande di Ascoli. Voglio vedere. Dove sei qui? Quale essere piazza qui? Questa, piazza di Galgaglia. Dove essere piazza di Calgaglia. Piazza di Galgaglia? Io non vedo piazza di Calgaglia qui. Io vedo via tranquilli. Eh, stai tranquillo, no? C'è stata piazza di Galgaglia. Stai tranquillo. Stai tranquillo. Stai tranquillo, piazza di Galgaglia. Una piazza delle Calgaglie che si rispetti si deve stare all'Ailand. Questa in Germania. Quando usavamo quella. Poi da te gli mettiamo quella. Cazzo di Germania. Piccola tecnologia. Siete? Questa ci sta volendo in giro era. Cazzo di acagna. Cazzo di acagna. Cazzo di acagna. Faccia. Stai cal. Noni, sei ingazzato. Noni. Comunque. No, perché i nascoli hanno la vita. Mi chiedi. Mi chiedi. Ti abbiamo chiesto un monumento. Un. Un che sia uno. Buono e c'è fortino. Ma perché non mi piace queste cose? Non hai interesse. Vabbè. Scusa. Biondo. Non biondo. Cos'è essere biondo? Biondo amico mio. Spanna il quarete, un biondo. Come può essere questo uomo biondo? Questo è lo scherzo della natura. Eh, sì. Sì. Capello ariano biondo. Eh. Su pelle cioccolatine. Cruciate male 3-4 persone. Quando finito a fare giro, lui viene in Germania con me. No, no, biondo, biondo. No, biondo. No, biondo, no. No, biondo, no. Fammi te salutare. Sopra in Germania con questo. Ciao, biondo. State tranquillo. Chi è essere questo? Chi è? Chi è? Cosa fare questo? Che deve fare? Fermare. Corriere? Ma dove siamo qui? Cosa essere qui? Non mi interessa correre. Io voglio sapere dove siamo noi in questo momento. Anche quando sto vedendo il mutuo ho messo tutti questi film. La Mupack. Cosa stiamo a fare qui? Cosa essere qui? Dove stare qui? Dove siamo noi adesso? Portavescove. Portavescove. Cosa essere? Voi ascolari tutti strani, tutti pazzi. Che può fare? Cosa essere portavescove? Che nuvino è portavescove. Un vescove ve lo porta un corriere ad Ascoli? Questo mi sta dicendo, ce l'ha portato un corriere veramente. Cosa strana qui in Italia. Cosa strana. Cosa strana. Cosa strana. Mitien. Piccolo uomo. Un monumento. Ecco lui. Che è? Ma ecco lui. Piccolo insignificante uomo. O tu mi fa vedere monumento. A me sta a dire? Yeah. Cosa essere questi quattro piedi con quattro pezzi di ferro. Questo monumento qui. Questo è il più famoso di Ascoli. Questo è Galeotto forte ma la testa. Io non vedo Galeotto forte ma la testa. Io vedo forte Galeotto ma la testa. Cosa? Galeotto forte ma la testa. Ma vuoi sapere perché? Cosa fate? Cosa lui fa? Guarda Galeotto. 8 Galeotto. Cazzo. Ecco. Aiii Kallen. 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 Kallen di rudo. Porca puttanen. D'amore. Porca troien. Come si dice Kallen in Germania? Kallen. E te lo mi dite bene? Porca puttanen. Centro. C'è compiato. C'è compiato. C'è compiato. C'è compiato. C'è compiato. E te crede. Ti è piaciuto questo monumento? Dai. Io voglio monumento serie. Monumento grande monumento. Ma vuoi fare con lui Rudolf? Lo stai facendo quasi in generale come si chiama? Ecco un grande pieno monumento. Cosa? Cosa essere queste quattro pietre? Qua dice? Io vedo mezza cucchiara e mezza copra. Esatto. Spaccate. E infatti è mezza copra. Cosa dice Michael Nagetino? Questo essere ponte di Cecche? Si. Ponte leggendario è costruito in una notte? Ma tu? In Italia? Ma questo non è finito. Questa ora è la 50. Rudolf soliti italiani. grandi progetti, piccole realizzazioni. Come Salerno e Giocalabria. Uguali. Però i progetti siamo fatti pietre. Mi chiedono. Io non capire cosa essere voi popolo ascolano. Tutto è testa. Se non vuole uno fare. Cosa? Cosa? Come si dice? Assure in tedesco. Assure. Assure. Ma si si calavano. Bravo. Buon bene se siete. Io va bene. Viglio fa bene? No. E' un'altra scuola. Qui ti sono? Alla scuola è un'altra scuola. Non è un'altra scuola. Vieni vedete rai da me. Lo c'è Marti. E' un'altra scuola. Dove stanno finito? Raus. Raus. Ehi. 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 Frusta via! Frusta! Frusta via! Frusta! Cosa è essere questi animali? Dei a fonte di gara! Cosa è essere fonte dei cani? A fonte di gara! Nein, nein, nein! Tuo lurido cane ha fatto piscia su mia scherpa! Non sai bene che ero conosciuto un sesso! Tuo lurido cane si voleva introppare le mie gambe! Vabbè, stia cieca perché sennò si sarebbe mai per dire! E' cieca! Mi tieni! Già le proprie! Su qui den! Ah! Fonte dei cani è ferma! Immobile! I canen qui dice essere di tramertinen! Capite? Immobile! Canen! Cane non si muove! Perché tuo cane si muove? De che fattica? Di tramertinen! No, allora, qua... Qua nuca di tramertinen, come dici tu, appaglia, moce che zombe la ranata! Essere svelto vostro cane! Cascua! Più di pastore tedesche più possibile! Tu mangi la culace la mattina, chissi che a vostri pastore tedesco vostro! Io metterò la prova! Aiutare a mio pastore tedesco in pasto te! Ma qua c'è Maurizio Murillo! Mi viene... Un monumento! E' tutto! E' tutto! Un palazzo! Un signor palazzo! Un signor palazzo volere vedere! Ora porto il mio posto dove una scuola... Piccolo uomo! Passa! Una volta! Dopo... Uno, due, barra, tre, vanta, unì! Grande monumento di Asker! Quale monumento essere? Viene che me! Questo essere monumento? No! Questo essere monumento! Rudolf, infatti, monumento è tuo! Midian, tu mi fai confusione! Tu non parli in frasca! Midian, un giro deve essere sempre quello! Rudolf, non mi faccio la riparo, no! Non ci confondere i denti! Vorrei sapere dove stai necchè! Non possibile essere in Olanda! No, eh, infatti, eh, questo è lo Sottalimalì! Mirazzo! Come essere qui? Sottalimalì! Ma come Sottalimalì questo essere in Olanda, sì? No, questa è malanara! Nein, nein! Sottalimalì non esistere! Sì, va, Rudolf, controllo! Non essere monumento! Non c'è Sottalimalì! Eh, bello, questo è un imbecilo! Questo, se faccio il pidello, lo sai come scrivere il pidello a quello che ha scritto questo? Già, ma ti mancano l'olio! Io almeno una ce la so messa! Senti, figlio, piccolo uomo! Almeno un monumento! Un palazzo! Ma ti faccio vedere! Fatto il cazzo tuo! Ma ti faccio vedere! Un palazzo più grosso della scuola! Qual è il palazzo più grosso della scuola? Ecco qua! Michio, tu, mi sembra che sta a cacciare Tombola! Cosa essere, Michio, in questa cosa? Che è questa cosa che in Germania viaggiano via fax! Che è questo? E tu ci chiami palazzo? Questa è la storia rascola! È un palazzo di capitano! Questo palazzo da noi non paga neanche tassa di immondizie! Tanto è vero che sono iscritto a Sidney e che ci sono detto, no! Ma perché noi abbiamo un palazzo, tu, capitano? Capitano! Grande Renato Campanini! Io vedo due capitani! L'unico mi puzza tanto di fare capire in questa gita! Che è? Che è successo? Io vedo due capitani! Tu perché salutare uno, capitano? Tu ci avete dubbi, io ne vedo solo uno! Grande Renato! Dietro a te c'è la Samba! Dietro a te! No, io la Samba ne ho detto uno, due, quant'altro! Samba! Eh? S di Stokkarden! A di Hamburken! M di Moneken! B? B? Baffanculo! Sì! Questo che volevo sapere tu che è che è? La Samba! Cos'è la Samba? Niente! In vuoto! In nulla! Cosen! Niente! Cosen! Cosen! Io non capisco! Voi popolo ascolano molto strano! Molto strano! Siamo certi che c'è la Nanzi! Noi siamo... Siamo... Ah, prima che Rudolf perde pazienza! Almeno... Un monumento! Certo che è tedesco proprio! Anche tra leptine! De Marlen! Volevo capire cosa essere quello in fondo. Quello? Il figo l'oggetto. Passate tutto la testa così? Oh, ecco, aspetta. Cos'è essere il torre di pizzo? Cosa rappresentare quel monumento? Questa è la squarcia, ma ci fa guindare. Cos'è essere squarcia? Sulla piantina non esiste squarcia. Non esiste campo degli occhi. Campo di chi? Degli occhi. E' deformazione, lascia aperte. Campo degli occhi. Dei livelli, dove hai squarcia? Dello campo maggiore. Vabbè, la vediamo di tutta. E' deformazione. Deformazione. Vabbè. Rudolf. Io voglio vedere un monumento. Rudolf, un attimo. Io vorrei fare un selfie con te in questo meraviglioso posto. Un nonio. Un... Selfie! Selfie? Ah, baci! Facciamo selfie! Facciamo selfie? Facciamo selfie con chi ci 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 έ. No, no, no. Picco, ci 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 ci... Facciamo selfie! Facciamo selfie, facciamo! Weil... Cello! Lascia ruona... Pazzone! Ficca selfie! Quero avere, non è una gioca di er reminisce. Io ruttarico io, quisciam. Vabbè! Ese pro un consultor, ero bravo. che ci prendiamo anche leggendi perché ne ha più in una leggendi se era una era leggenda Rudolf tecnologia tedesca è molto lenta Rudolf tecnologia ci si arregna ho fatto Zepi adesso volete documenti devono metterli guarda adesso finalmente grande cappella Sì, sì, sì. Dove essere cappella c'è sempre chiesa, eh? Grande cappella, grande chiesa. Qua noi di solito soltanto la cappella la chiesa non c'è mai stata. Grande, grande, grande cappella. Non è possibile. Cappella Sistina a Roma. Anni e anni che non vedete cappella. Eh, ci credi, ci credi. Anni e anni, fatti i cazze tuen. Bella cappella. Bella, bella cappella. Sì, io voglio vedere perché c'è chiesa sotto cappella. Questa in Germania, qua non c'è stata cappella su sopra e porta aperte o sotto. Andiamo a vedere, forza, andiamo. Vieni con me, quel spettacolo, con cappella, che spettacolo. Renato, che spettacolo. Come bella, oh. Cappella come quella di Rudolf. Cappella a chiesa. Non. Qui sotto per forza a chiesa. Non. Cappella, cappella. Due cappelle? Certamente. Non è possibile due cappelle. Certo, questa è più sviluppata. Questa è un po' meno sviluppata che la che sta a chiesa. Anche Rudolf. Vuoi dire? Vuoi controllare? Ma dopo mettiamo sotto sopra e veniva. Comunque a scolare il popolo strano. Questa cosa essere? Cos'è essere questo? Cosa è cascata la lingua? No, stavo parlando a signorali che poi ci unisce, invece no, mi ha provato a studiare. Questa è la zona di Cannarine. Zona Cannarine, Cannarine. Qui è essere scritta zona canterine, no Cannarine. E' sbagliato a scrivere. E' scritta male su libri? E' sbagliato a scrivere una volta. Ma tu vuoi che è imbrato su libri in Germania? Ad Ascoli Picene. Che cazzo, sta calmo. Però è sbagliato, questo non è, è la zona di Cannarine. Ma chi scrive qui di Ascoli Picene? E' l'usaccio. E' mannato. FUTE BEDEL. Questa cosa cosa essere? Questa cosa essere? Questa è la crocifista dell'icone. Cosa essere il crocifista dell'icone? Grossa gelateria. Ma che gelateria? Si perché noi, siccome qua, quando ci sono gelate le coglioni, non sa che se noi ci sentiamo la messa e ce la nemmo pure in un gelato. Avanti. No. L'Udo Salle e Puzza sembra più di grande. Ascolano, popolo strano. Oltre strano. L'Udo Salle e Puzza sembra più che medio portiamo con noi in Germania. Con la letterina. Con la letterina. Questa cosa essere. Questa cosa. Cosa essere. Cosa essere, signore? Signore, a me mi ce l'ha voluto di chiudere, signore. Cosa essere, signore? La scopa, no. Questa essere chiesa. Si, perché non chiediamo la messa. Ci sentiamo la messa. Ci manchiamo un gelato. Quando è finita, nemmo una polizia. Scusen. Allora pure a casa tenga la chiesa. La scopa non ce l'ha, Eva? Grazie, mancherà la cappella. Non ci scopen. La scopa. La scopa polvere. La scopa polvere. Devevo fare questa cura bene. Comunque voi siete tutte strade. Comunque voi siete tutte strane. Comunque voi siete tutti strane. Vieni che andiamo avanti. Vieni che andiamo avanti. Vieni che andiamo avanti. Vieni che andiamo avanti. Questa cosa rappresentare. questa cosa essere io non capire cosa essere questa cosa questa piccola cosa minuscola cosa mi sta prendendo il tiro vada che io ho carta bianca dire cosa essere questa cosa a chiesa di plastica cosa essere chiesa di plastica in cosa può essere quale essere vantaggio di costruire una chiesa di plastica vantaggio che sta tutto questa scelta è proprio strana midian tu vieni con noi in germania con le torino sempre che le torino che non arrivo sul muro midian andiamo avanti potremmo portare la zona nobile di ascoli quale sarebbe io non vedo la zona nobile io e ci eccola qua cosa sono queste ridicole casine queste sono le case minime queste piccole presepe case minime quattro mura udite minime lo chiamavamo massime minime indor qua puzza sempre di più di fregatura io vedrei i casi di presepe cosa essere questa cosa cosa essere sai dove stiamo qua a shanghai shanghai? noi siamo ad ascoli piccene come fai a stare a shanghai? perchè ci eravamo rotto di coglioni e ne pettiamo aeree allora siamo dite facemucela qua a shanghai chi chiude il pullman e ci arriva rudolf pro stiamo con noi midian in germania mi sta salendo la bile mi sta prendendo l'impatto portiamo con noi midian in germania si c'è date grosse fregature che cazzo dici? ci sono fatto vedere tutta la scuola bella comunque poi il monumento è finito mi sono fatto vedere tutto questo è tutto? abbiamo finito il monumento? non abbiamo altro da finire? no avevi detto che ci facevi vedere ascoli per lungo e per larghe? ma ci sono fatto vedere prima per lungo poi sei visto per larghe poi sei venuto per larghe poi sei venuto per sforzo noi non abbiamo visto niente l'unica cosa che abbiamo capito è che il popolo ascolano è grandissimo grazie grandissimo paracool esatte grazie allora sei venuto se bevemmeno lì tre di ventre il boccia di l'agermaster ancora Montenegro pateggerà il boccia di l'agermaster e poi anche mangiare siamo arrivati non arrivati prima non è riuscita che è un bento non è riuscita non è riuscita è un'unica cosa che è stessa come in mente la scuola è un bel passo OS